Uno spacciatore di droga è arrestato e 24 ovuli contenenti attrettanti grammi di eroina sequestrati. Le manette, grazie all'attività di controllo svolta dal personale del commissariato di pesce, è finito un 28enne nigeriano senza fissa dimora, che alcuni mesi fa era stato arrestato sempre per spaccio di droga a Prato, centro dal quale si era spostato verso la Val di Nievole, verosimilmente per sfuggire all'attenzione delle forze dell'ordine e per conquistarsi i nuovi mercati. La sua presenza infatti era stata accettata nei mesi scorsi a Massecozzile, poi a Montecatini, fino all'arresto a Pescia. L'uomo ha cominciato a espellere gli ovuli mentre già veniva trasportato in ospedale, dove è stato anche sottoposto a TAC, dato che aveva rivestito i contenitori della droga di un materiale opacizzante per sottrarli alle rilevazioni di radiografie. L'arresto da che indagine è scaturito? È scaturito da una serie di notizie che i miei ufficiali di Polizia Giudiziaria avevano raccolto in merito ad una nuova modalità di spaccio di sostanze stupefacenti che avviene sul treno, sulla tratta Pescia verso Firenze, ad opera di cittadini di nazionalità nigeriana, che utilizzano un particolare modus operandi, che è quello di occultare le dosi in bocca ed eventualmente di ingoiarle al lato del controllo o di occultarle all'interno del tratto intestinale. Gli agenti sul territorio come sono arrivati a individuare questo particolare soggetto? Si sono organizzati predisponendo una serie di servizi attraverso la volante che opera sul territorio, in servizio di controllo del territorio, nella zona della stazione e hanno monitorato per diversi giorni e controllato le persone che arrivavano in stazione, fino a quando, nella mattinata di venerdì scorso, alle 11.30, circa hanno notato questo cittadino di nazionalità nigeriana arrivare a bordo di una bicicletta, parcheggiarla e entrare all'interno della stazione. Hanno notato che aveva qualcosa serrato nella bocca, per cui hanno proceduto immediatamente al controllo e immediatamente si sono accorti che il cittadino aveva degludito della sostanza e di conseguenza lo hanno portato immediatamente all'ospedale, dove gli sono stati effettuati tutti i riscontri diagnostici, attraverso i quali è stato individuato che non solo aveva ben sette ovuli nel primo tratto dell'apparato, in particolare quelli che aveva degludito, ma ne aveva anche altri sia nel tratto finale che nello stomaco, per un totale di 24 dosi.